Ciao a tutti! Settant'anni fa, nel 1963, il suo indimenticabile discorso, quella Jeve Dream, che ancora trasmette speranza e desiderio di giustizia. Il Toscana Gospel Festival, con i suoi 12 concerti in tutta la regione, ha fatto tappa anche a D'Arezzo, all'auditorium Carumall Guido D'Arezzo, con Roderick, Gilles e Grace. Il viaggio del Toscana Gospel Festival è iniziato nel 1996, una storia di 26 anni con oltre 350 corali, oltre 3.000 artisti e centinaia di concerti in tutta la regione di gruppi gospel talentuosi provenienti dagli Stati Uniti.